Il Parlamento europeo, simbolo, bandiera o motore democratico dell'Unione? È una bella domanda, è una domanda fondamentale che fa da sottotitolo al libro scritto da Claudio Martinelli, ve lo facciamo anche vedere, eccolo, il Parlamento europeo appunto, dal professor Martinelli, il quale è docente di diritto pubblico comparato nell'Università Bicocca di Milano. Un libro che potrebbe anche essere, perché no, una guida alle elezioni prossime a venire, lo ricordiamo, giugno di quest'anno. L'editore è il Molino, il professor Martinelli è il nostro ospite, subito dopo la sigla sarà con noi, molte le domande che vogliamo porgli, anche perché oggi sono molte le domande che l'Unione europea pretende su di sé si facciano, per meglio comprendere come funziona, come possa anche incidere, perché no, sulle nostre scelte, se ci sentiamo come dovremmo sentirci elettori. Sigla dunque è dopo conversazione cordiana con il professor Martinelli. La saluto, professore, benvenuto in pubblicazione. È un piacere conoscerla personalmente. Buongiorno. Grazie, buongiorno, piacere mio e grazie per l'occasione che vi date di parlare del mio libro di prossima uscita. E attraverso il suo libro parlare del Parlamento europeo lo facciamo rivedere ancora, mentre le formulo proprio la prima domanda, perché è molto intrigante quel sottotitolo con punto interrogativo, perché va bene il Parlamento europeo e il Molino fatto bene, secondo me, non è uscire in questo momento, però perché si pone il problema se è un simbolo, se è una bandiera o se è o dovrebbe essere un motore democratico dell'Unione? Vorrei che questa fosse la nostra prima domanda. Le do la parola. Sì, questa è la prima preoccupazione che avevamo con l'editore quando abbiamo pensato a questo libro, cioè abbiamo ritenuto che attorno al Parlamento europeo ci fossero un po' di luoghi comuni e in generale molta poca conoscenza della sua storia, di che cosa il Parlamento faccia, come si inserisca all'interno dell'ordinamento dell'Unione. E quindi abbiamo sintetizzato il nostro intendimento dentro questa domanda, e cioè spiegare ai lettori, che poi saranno anche elettori ovviamente, quindi per renderli più consapevoli possibili, di che cosa andranno a votare, su che cosa andranno a votare. E quindi la domanda è, ma questo Parlamento europeo è appunto soltanto un simbolo, una bandiera, o è un organo che svolge delle funzioni centrali nella forma di governo dell'Unione europea? E quindi attorno a questa domanda abbiamo costruito l'intero libro. Da prima abbiamo cercato di dare delle risposte anche di natura storica, per far vedere come il ruolo del Parlamento europeo, in generale delle assemblee europee, si sia molto modificato nel corso del tempo. E poi per dare conto di a quali approdi è giunto. Quindi, diciamo, antipando se vuole in qualche modo la risposta a quella domanda, potremmo dire che è certamente un simbolo, certamente una bandiera, ma è ormai anche uno dei motori fondamentali attorno a cui ruota l'intera costruzione che chiamiamo Unione europea. Senta, professore Martinelli, la domanda di fondo, che credo tutti si facciano, è ma quali reali poteri ha il Parlamento europeo? Si tratterebbe anche di dire poi come li esercita, e che rapporti ha con, per esempio, il Parlamento italiano? Il Parlamento europeo ha molti più poteri di quanto normalmente si creda. È vero che non è assimilabile, per una serie di ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare, ma che appunto nel libro spiego, non è assimilabile esattamente a quello che fanno i Parlamenti nazionali. Però certamente dentro quella complessa costruzione che è l'Unione europea, svolge un ruolo di primo piano. Innanzitutto il Parlamento europeo contribuisce a determinare i componenti della Commissione. Dico contribuisce perché contribuisce insieme all'altro grande organo legislativo dell'Unione europea, che è il Consiglio. Attraverso determinate procedure che appunto vengono spiegate nel libro, si vede come il Parlamento europeo sia determinante per la scelta del Presidente della Commissione e per la scelta dei componenti della Commissione. Dopodiché il Parlamento svolge importantissime funzioni normative, anche di rango legislativo. Le fonti legislative più importanti dell'Unione europea sono i regolamenti e le direttive e in entrambe queste fonti il Parlamento europeo entra con un ruolo di primo piano insieme alla Commissione che ha delle sue funzioni, in particolare ha l'iniziativa legislativa e in funzione di co-legislatore con il Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Allora, professor Martinelli, mi deve perdonare. Io capisco bene che sarebbe lungo il percorso ed è intrigante, ma per questo consigliamo di andarsi a leggere il libro. Perché delle domande sono pressanti rispetto a questo tema. Ad esempio, oggi sono messi in discussione proprio l'impianto dei diritti, del sapere critico, della partecipazione democratica, su cui si fonda l'idea stessa di Europa disegnata dal manifesto di Vento Tene, ricordiamolo. Io poi mi chiamo di cognome, porto un cognome che è Capitini, quindi immagini un poco con Aldo Capitini sopra la mia testa come mi ritrovo. Ma lei che pensa di questa Europa unita, disunita, democratica, non democratica, è capitata tra l'altro in una congiuntura epocale piena, piena di problematiche? Come ne sta uscendo? Ecco, queste sono le domande che la gente che ci ascolta vuole sentire come risposte da lei. Provo a dare una risposta forse un po' controcorrente e che magari non ci si aspetterebbe, perché di solito quando ci sono dei momenti di difficoltà ci si aspetta risposte del tipo «Ah sì, siamo messi malissimo, andrà tutto malissimo». Cominciamo a dire una cosa che è esattamente il concetto con cui apro il primo capitolo del libro. L'Unione Europea è, diciamo, la storia dell'integrazione europea, è una storia di successo. Mi permetto di dire di grande successo. Cioè, quando si ragiona di massimi sistemi, come stiamo ragionando noi addirittura sulla democrazia, la crisi della democrazia, non bisogna mai dimenticare da dove questo progetto arriva. Cioè, arriva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ed è stata l'integrazione europea in tutte le sue variegate, che sono descritte nel libro, tappe, passaggi che hanno portato... Compresa la caduta e le muro di Berlino, non dimentichiamo... Assolutamente, è uno dei momenti centrali che spiegano, a un certo punto, l'innesto di una specie di turbo politico, che poi porta al Trattato di Mastro. Ma appunto, è una storia molto lunga, molto complessa, ma se noi partiamo dalla situazione in cui si trovava l'Europa quando questa storia è cominciata, beh, non possiamo che rimanere a bocca aperta rispetto ai grandissimi passaggi che questa integrazione ha avuto, tra nazioni, io questo mi permetto di ricordarlo con forza nel libro, tra nazioni che avevano dietro di loro secoli di guerre spaventose e, nel caso specifico, anni di una guerra spaventosa, che era una guerra mondiale, ma che è stata innanzitutto una guerra civile europea. Ecco, se riusciamo a non dimenticare questo, secondo me possiamo guardare anche con un po' più di ottimismo alla realtà attuale. Perché? È una realtà... Prego. Questo, professore, questo che sta dicendo è molto importante, secondo me è anche non tanto controcorrente, forse congruo rispetto all'oggi, se visto da un certo punto di vista, ma proprio per quello che sta dicendo le chiedo, ma come spiegarsi allora queste forze regressive, un poco disgreganti, molto populiste, il Parlamento europeo, l'Europa, lui, deve essere stata non solo resiliente tantissimo, ma tantissimo resistente, se ancora esiste, perché sono forze centriputere molto forti, mi pare. Certo. Allora, intanto non dimentichiamoci che l'Europa parte a sei e arriva a 28-27, erano 28, adesso poi con la Brexit sono 27, 27 paesi con una storia, in particolare con una storia del Novecento, completamente diversa e che quindi era inimmaginabile, secondo me, fin dal 2004, cioè quando ci fu il più grande allargamento della storia dell'Unione europea, in cui vennero inseriti molti di quelli che fino a pochi anni prima chiamavamo i paesi dell'Est, che erano governati da un sistema politico, economico e sociale completamente diverso rispetto alla democrazia liberale. Era inimmaginabile che non ci fossero dei contraccolpi. E in questi anni, effettivamente, in quest'ultimo decennio, quindicennio, contraccolpi ce ne sono stati e ce ne sono stati molto forti. Tutti abbiamo in mente alcuni di questi paesi che hanno avuto, in qualche caso hanno ancora, dei grossi problemi con quello che noi chiamiamo lo Stato di diritto e che in tutto il mondo si chiama la rule of law, e cioè, diciamo, alcuni fondamenti di carattere giuridico del costituzionalismo, a cominciare dalla separazione dei poteri. E poi abbiamo avuto la Brexit, la quale... Io ho pubblicato un libro l'anno scorso, proprio, che si chiama La Brexit e la Costituzione Britannica, dove spiego le ragioni molto british di questa scelta. Quindi io sono contrario a immaginare la Brexit come un effetto domino sui paesi del continente, perché le ragioni per cui quella scelta è stata presa dai britannici e, in particolare, dagli inglesi, sono tutte ragioni, o quasi tutte ragioni, che hanno essenzialmente a che vedere con la cultura british e con una certa interpretazione, secondo me erronea, ovviamente, in quel momento della cultura british. Quindi, se teniamo conto di tutte queste cose, che panorama abbiamo davanti? Abbiamo davanti un panorama certamente complesso, certamente variegato, dove rigurgiti di populismo non sono identici e non hanno tutte le stesse radici in tutti i paesi dell'Unione Europea. Le ragioni che portano alcuni paesi dell'Est, penso in particolare in questo periodo all'Ungheria, a mettere in discussione alcuni fondamenti dello Stato di diritto, non hanno niente a che vedere con quanto sta succedendo nei paesi tradizionali occidentali. Che cosa è scattato? È scattato che questo meccanismo che nel libro spiego, che appunto lei in qualche modo sintetizzava sotto l'espressione populismo, qual è il gioco del populismo? È un gioco molto facile, perché laddove ci sono delle problematiche, penso alle crisi economiche in particolare, a quella che si scatenò tra il 2007 e il 2008, che ovviamente hanno provocato una serie di problemi, anche economici, dentro i paesi. È molto facile per i populisti indicare il nemico esterno. Questo l'abbiamo visto anche in Italia, quante volte ha l'Unione Europea cattiva che ci chiede determinate cose dal punto di vista della disciplina di bilancio. O se pensiamo addirittura alle tematiche ecologisti, ambientaliste, a tante tematiche. Tante tematiche in cui si dice no, è tutta colpa del... Ora, intendiamoci, io faccio un discorso di carattere istituzionale nel libro. I ragionamenti di carattere istituzionale sono un po' diversi da quelli di carattere politico. Cioè, quando io per esempio nel libro indico alcune problematiche di carattere istituzionale che andrebbero risolte attraverso delle riforme di carattere istituzionale, non intendo dire che questo garantisce, garantirebbe o garantirà l'Unione Europea di prendere delle decisioni politiche sempre positive e condivisibili. Questi sono due piani diversi. Tutti i sistemi costituzionali, sia quelli nazionali, sia quelli sovranazionali, sia quelli subnazionali, pensiamo alle regioni per esempio, possono prendere delle decisioni politiche sbagliate anche se funzionano benissimo. Quindi teniamo sempre questa differenza tra questi due piani. Ma io la capisco bene, professore. Teniamola la differenza e ha ragione a sottolineare anche la importanza delle istituzioni. però i temi, i problemi sono così pressanti e mai come in questo momento evidentemente devono confrontarsi con l'Unione Europea che anche la gente comune, io dovrei farle vedere due o tre mail che sono arrivate, che mi propongono domande da farle. Ma fondamentalmente ci si chiede, in questo momento l'Europa dovrà pur decidere se ha la forza di fare quel salto di coesione che è necessario oggi ad affrontare il contesto internazionale. Perché questo è il punto nodale, non solo il rapporto con gli stati ma il contesto internazionale. Perché in questo momento l'Unione Europea è esposta, ahimè, su più fronti, anche opposti. Capisce, professore? Quando io parlavo di riforme istituzionali dell'Unione Europea pensavo proprio a questo, cioè la grande posta in palio della prossima legislatura, quella che si ha con le prossime elezioni di giugno per il Parlamento Europeo. La posta in palio è esattamente questa. Cioè, io credo, ho scritto anche nel libro, l'Unione Europea si trovi ad un bivio della propria storia. Da una parte c'è il rigurgito rigurgito di un'idea che è sempre esistita, per esempio negli anni Sessanta era portata avanti dal generale de Gaulle, che l'Unione, che diciamo all'epoca si chiamava comunità europea, ma insomma l'integrazione europea, debba essere un'integrazione tra stati nazionali e sovrani. E che metta in comune solo pochissime determinate cose da decidere di volta in volta a livello di accordi tra governi nazionali. Dall'altra parte c'è invece un'idea di proseguire nell'integrazione in un senso che, adesso senza entrare in mille rivoli e in mille dettagli, ma per capirci, potremmo definire di carattere federale. Cioè una struttura dell'Unione europea dove gli organi espressione della dimensione sovranazionale abbiano sempre più potere e sempre più capacità decisionale. Quindi bisognerà fare anche qualche scelta indolore probabilmente a questo proposito. Da che punto di vista? Dal punto di vista, per esempio, anche finanziario. Ad esempio, per il discorso economico è fondamentale in questo momento. Allora, se si dovesse decidere nella prossima legislatura di andare verso la strada federale, è ovvio che le risorse di cui avrà bisogno questa struttura federale dovranno sempre più essere risorse proprie a cui questa struttura potrà attingere per funzionare. Facciamo un tema specifico di cui si parla moltissimo in questi giorni. L'ipotesi di un esercito comune europeo. Era la mia domanda successiva, professor Martinelli. Ora, finché se ne parla in questi termini, cioè senza collocarlo all'interno di questa decisione da prendere, è un pur parler da salotto, ma niente di più. Se invece si vuol dare una concretezza a questa ipotesi, bisognerà per forza dargliela, perché lo vediamo come non sono gli eserciti nazionali, ma le politiche estere nazionali di fronte a problemi che sono sempre più globalizzati, dove si confrontano e si confronteranno sempre di più grandi macro aree del mondo, ecco, di fronte a questi temi la dimensione nazionale diventa, mostra sempre di più la sua inadeguatezza. E allora, se si decide di andare su l'unica, quella che a me sembra l'unica strada possibile, perché l'Europa conti qualcosa sullo scacchiere internazionale, conti davvero al pari degli altri attori, necessariamente bisognerà andare verso una struttura comune finanziata da soldi comuni a cui corrisponda una politica estera e una politica di difesa comune, perché le due cose ovviamente sono intrecciate. Sente, prima sore, devo purtroppo andare verso la chiusura e ho almeno due domande ancora per lei. Mi dica a lei cosa preferisce. Una è di strettissima attualità ed è questa. Intanto la ringrazio molto perché sta parlando con estrema chiarezza ed è quello che mi ponevo come obiettivo, perché sarà la mia ultima domanda, la penultima allora. Dopo le parole di Trump che invita Putin ad invadere i paesi europei dell'altro giorno che non contribuiscono a sufficienza alle spese alle spese NATO, ricordiamolo. Dopo, perché non dirlo, l'assassinio anche di Navalny, se vogliamo chiamarlo con le sue parole. Mentre arrivano cattive notizie sull'andamento della guerra in Ucraina, anche questo bisogna dire. Il 2024 voglio una sua risposta che tenga conto che è davanti una platea spero di elettori. Ecco, sarà decisivo per l'Europa? Allora, io preferisco non dire il 2024, perché tanto non ho la sfera di cristallo, però certamente credo di sapere che saranno decisivi i prossimi anni. Io prima ho parlato di legislatura, legislatura dura cinque anni. Cinque anni sono pochissimi pochissimi rispetto alle sfide che l'Unione Europea ha davanti. Quindi, secondo me, o nel 2024, dopo le elezioni, si avvia e si prende una decisione da questo punto di vista. Io ovviamente ho le mie opinioni, ma non è che considero a priori non percorribili le opinioni di chi ritiene invece di andare sull'altra strada. io penso che continuare a vivacchiare così sia sbagliato. Ecco, il bivio bisogna intraprenderlo e contribuiranno ad intraprenderlo anche i cittadini votando, naturalmente. Ed ecco allora, professor Martinelli, la mia ultima domanda. Partendo dal presupposto, non mi smentisca la prego, che i cittadini sentono un poco, gli italiani sentono nell'Europa o l'hanno sentita fino a ieri lontana. Non so se ha ragione o ha torto. È giusto che approfittando delle elezioni del giugno invece ci si renda consapevoli che anche quelle elezioni sono importanti, anzi, forse sono più importanti di altre? Allora, il fatto che i cittadini sentano, ma non soltanto italiani, sentano lontana all'Unione Europea, non solo è vero, ma le dirò che per una parte è colpa dei cittadini e per una parte è colpa delle istituzioni. La colpa delle istituzioni è di essere due cose molto difficili da capire e molto poco spiegate e questa è una delle ragioni per cui abbiamo scritto il libro. Da parte dei cittadini invece ogni tanto c'è la tendenza a farsi rascinare dal luogo comune. Allora, quello che posso esortare io a fare è andate a votare consapevoli della scelta che state facendo. Questo è l'unico modo per sentire l'Unione Europea professore non aggiunga altro lasciamolo a lapidaria a questa sua affermazione finale nel momento in cui mi fa piacere mostrare ancora il suo libro eccolo qua il Parlamento Europeo con cui punto interrogativo se sia simboli bandiere o se invece un ruolo importante e mi pare che l'abbia disvelata bene la sua risposta al di là di questo ricordo che è stato veramente un grande piacere aver conosciuto e aver conversato con Claudio Martinelli che è docente di diritto pubblico comparato alla Università Bicocca di Milano è un periodo professor Martinelli che con Bicocca noi ci stiamo intrattenendo molto a cominciare dalla sua rettrice capa di tutto il mondo anche se bisogna dire che in questo momento l'università è anche abbastanza sotto osservazione per tanti altri brutti motivi che speriamo indagini che sono in corso disvelino anche se meglio tanto io la ringrazio veramente di cuore professore se ho bisogno di avere un interlocutore che sa parlare con chiarezza di alcune tematiche non facili come questa che non era per niente facile ma importantissima so a chi rivolgermi se lei è d'accordo e se impara tecnicamente a funzionare bene a funzionare bene va bene professor Martinelli certo grazie a lei grazie infinite a presto allora arrivederci arrivederci grazie grazie a tutti